Benvenuti a questo appuntamento con lo speciale Tg8. Alcuni giorni fa sul quotidiano locale alla Sicilia è stato pubblicato un articolo a firma della collega Pinella Leocata dal titolo Pornografia tra ragazzi e aggressività. Vi leggo soltanto l'attacco di questo pezzo, poi presentiamo la nostra ospite. A scuola, già dalle elementari e soprattutto alle medie, si registra una violenza diffusa contro le ragazze, contro i più deboli, contro i ragazzi che non esibiscono virilità e aggressività. Una violenza che le insegnanti non sanno come gestire, che i genitori negano o ignorano e di cui non si parla. A lanciare questo allarme in qualche modo è Graziella Priulla, che è ordinaria di sociologia dei processi culturali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Ateneo di Catania, che è il nostro ospite. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitata. È una problematica di cui si parla troppo poco? Sì, è un problema molto ampio che coinvolge moltissimi ragazzi e quindi dovrebbe coinvolgere moltissime famiglie in quasi tutte le scuole, ci sono episodi di questo tipo, però o per paura o per omertà o per superficialità, i motivi possono essere tanti, se ne parla poco e malvolentieri e quando si può si cerca o di minimizzare o di negare. È vero che dopo la pubblicazione di questo articolo ho ricevuto diverse telefonate da parte di dirigenti scolastici? No, dirigenti scolastici no in realtà, dirigenti scolastici non proprio nessuno. Pensavo che magari qualche scuola vi fosse interessata per averla presente. Le scuole sì, ma le docenti più che altro. Ah, le docenti, pensavo che dirigenti. Sono stati da un lato i genitori di alcuni studenti e in modo anche strano che mi ha colpita sia genitori di vittime che genitori di bulli, cosa che significa che anche per il bullo l'esperienza è traumatica. E poi alcuni ragazzi, soprattutto quando vado nelle scuole, mi prendono da parte e mi dicono professoressa vorrei parlarle, io vado spesso a fare conferenze, dibattiti, tante cose nelle scuole, scuole superiori ma anche scuole medie, più difficilmente nelle elementari dove è più difficile parlare con i bambini. Però molte mamme di bambini mi dicono cose tristi, cose terribili, bambini che arrivano con bruciature, bambini che arrivano con tagli, bambini che arrivano con i vestiti strappati, con i giocattoli rotti e con una carica di sofferenza che a quell'età deve essere davvero insopportabile. Lei ha analizzato, ha esaminato i dati che sono dati nazionali, i dati che arrivano dal Ministero? Sì, sì, il Ministero pubblica periodicamente i dati delle rilevazioni nazionali, il Ministero dell'Istruzione tra l'altro ha un link che si chiama Smonta al Bullo, dove non soltanto pubblica i dati delle rilevazioni ma anche tutta una serie di indicazioni, di strumenti didattici. Non è vero che non si può fare niente, ma si può fare se si prende in esame il problema. Comunque lei mi chiedeva i dati. L'unismo che comincia già in tenereità, già alla prima elementare. Sì, negli ultimi anni, sì, quarta, quinta elementare, quando la forza fisica comincia a diventare tale da poter essere tradotta in prevaricazione, in prepotenza. Vittime 40%, Bulli 27%, l'85% degli studenti ha assistito a scene di violenza, il 50% di essi non ha reagito, non ha difeso la vittima per paura o per condivenza, complicità o addirittura ammirazione nei confronti degli aggressori e questi mi paiono dati pesanti. Se sono veri mi paiono perfino esagerati, non pensavo a una dimensione, questo sono il 2010, non so se è aumentato nel frattempo, ma certo sono dati impressionanti e mi pare stranissimo che i giornali, che i mezzi di informazione se ne occupino così poco. Come sociologa, lei che idea si è fatta? Dei motivi o delle dinamiche? Dei motivi, insomma, perché si è arrivati a questo, perché succede questo, manca il controllo genitoriale, i genitori fanno meno i genitori rispetto al passato o cos'altro? La scuola non svolge più il compito che dovrebbe svolgere fino a fondo? È stato, è un fenomeno che c'è sempre stato, se ricorda il libro cuore, come si chiamava quello cattivo, Franti, che picchiava gli altri compagni. Quindi, però, come dire, questo fenomeno può essere frenato da un lato da un'autorevolezza degli adulti, cioè un adulto che spieghi in modo chiaro e definitivo che questo non si può fare, basta. E allora che poi eventualmente, io sono in questo caso anche un po' drastica, che prende anche dei provvedimenti però, perché se gli dici stai buono, non lo fare e poi non succede niente, quello si convince dell'impunità e continua a non farlo. Questa crisi di autorevolezza di tutte le autorità però è contagiosa, nel senso che è partita dalla politica e poi è andata espandendosi dappertutto. Nessuna autorità è più autorevole in questo paese. A nessuno i ragazzi, addirittura adesso vediamo i bambini, attribuiscono il ruolo di modello, di esempio. Di nessuno dicono, ecco, di quella persona io in qualche misura ho rispetto, addirittura forse soggezione o comunque rispetto perché la vedo come un modello di riferimento. Questo è molto pericoloso secondo me. In un'età, quella fra il finire dell'infanzia e l'inizio dell'adolescenza, dove i modelli sono importanti, essenziali. E se il modello diventa il piccolo bullo di quartiere, anziché l'adulto autorevole, i guai sono forti. Senta, tornando ai genitori. I genitori si sono trasformati da un po' di tempo a questa parte in sindacalisti e avvocati dei figli. Perché una volta quando un ragazzino con un brutto voto tornava a casa, il genitore chiedeva al ragazzino perché quel brutto voto. Oggi, se succede una cosa del genere, il genitore va dall'insegnante, va a scuola e cerca di sapere dall'insegnante perché gli ha messo quel cattivo voto. Cercare di sapere è una perifrasi gentile. A volte addirittura arrivano con insulti, aggressività, lamentele che si traducono in conto e ragione. Vogliono conto e ragione. E non si accontentano di una dimostrazione, diciamo, logica. Insistono anche sugli aspetti persecutori o psicologici che loro attribuiscono all'insegnante. Pensi, paradossalmente, che mi accade anche all'università, una cosa mai vista, che arriva nei genitori in caso di bocciature di figli. Sì, questa è una dinamica che accade, che testimonia, come dire, che gli stessi genitori non hanno fiducia nell'autorità e questa è un'altra cosa che si trasferisce. Andare dal professore a lamentarsi, a chiedere conto, vuol dire che non gli attribuiscono credibilità e questo contagia anche i figli, ovviamente. E questo è indubbiamente vero. Però è anche vero che sia i genitori che i professori non servono solo a reprimere. Dovrebbero anche comprendere i segnali. E questi ragazzini i segnali li mandano. A volte li mandano in modo disperato, con autotorture fisiche, con casi di depressione profonda, di anoressia, di disgusto per la scuola, si ammalano per non andare a scuola. I genitori come fanno a non accorgersene? A me questo lascia sempre un poco sbalordita. Parlano poco, regalano tante cose, ma danno poco tempo e poche parole. E questo è un dramma, è un problema, è una cosa che mi preoccupa. Senta, quanto influenza questo fenomeno, quanto incide su questo fenomeno la presenza di tanta tecnologia nelle nostre case? Qui si apre un altro discorso che non è proprio identico, è parallelo a quello di prima. Nel senso che, da un lato, la tecnologia in sé, dicevamo anche prima parlando tra noi, non è né buona né cattiva, nel senso che il telefonino è un oggetto, non è altro che un pezzo di metallo e di plastica assemblato, dipende dall'uso che se ne fa. L'uso può essere bellissimo, può essere interessantissimo, io ho 1500 amici su Facebook e mi trovo benissimo. Il problema è se questo uso sostituisce la convivialità, la socialità, la confidenza, la capacità di esprimere sensazioni ed emozioni, prima cosa. Seconda cosa, il tasto della tecnologia coinvolge poi un altro discorso che è preoccupante altrettanto, il fenomeno del bullismo cibernetico, il ciberbullismo, che può essere persecutorio, nel caso poi di maldicenze, calunnie, persecuzioni a base di distorsioni di realtà, oppure può essere anche di tipo ambiguamente sessuato, quello che si chiama sexting, l'allargarsi dei fenomeni di seduzione, anche spinta, attraverso telefonini e tablet, in età proprio piccola, bambina quasi. E questo comincia con la pubblicazione di foto ammiccanti? Di foto ammiccanti all'inizio, con posi un po' sensuali che scimmiottano i grandi. E anche qua sono stati gli adulti a insegnarglielo, perché se lei sfoglia le riviste di moda, trova che la moda per bambini è veicolata attraverso immagini totalmente sessuate, che ricalcano totalmente quelle delle riviste degli adulti. E le pubblicità, e i centri estetici per bambine, e i push-up reggiseni per bambini di 7 anni, e la lap dance insegnata a 4 anni, e i concorsi di bellezza per bambini di 3 anni. Tutto questo contesto ha sessualizzato enormemente l'infanzia, perché fa vendere, perché crea un'industria. Di lì poi naturalmente il passo diventa sempre più veloce, sempre più scivoloso, dall'atteggiamento ambiguo al vestito più o meno inesistente, alle foto ancora più spinte, alle foto di gruppo, eccetera, fino ad arrivare anche a fenomeni di scambio di favori attraverso telefonini o tablet. I casi di vera e propria prostituzione sono pochissimi, la stampa li ha esagerati in modo anche morboso. Esistono, ma sono state iparizzate. Esistono, ma è difficile che ci si arriva. Quello che mi preoccupa è il contesto, perché questo, da un lato mercifica il corpo femminile, femminile, rendendolo sul mercato né più né meno come se fosse un pezzo di carne. Dall'altra, sottopone questi ragazzini a un'età in cui l'immaturità è totale, a sbalzi emotivi, a pulsioni sessuate, a contatti e discorsi che non sono adatti a quell'immaturità. Non sto facendo un discorso moralistico, non è che parlo di peccato, parlo di squilibrio psicologico che può portare poi a casi di, come posso chiamarle, inappetenza emotiva, non sanno più controllare le emozioni. Professoressa, torniamo sempre alla famiglia, che ruolo deve svolgere la famiglia? Mettersi in ascolto, ascoltare, vedere, guardare, guardare davvero, non limitarsi a dire hai fatti i compiti? Ah sì, bravo, gioca col telefonino, vabbè, non dico in intrusione, non è il controllo che mi interessa tanto, anche perché il controllo poi si elude tanto facilmente, è la sintonia, il capire, il leggere i sintomi, il parlare, il decodificare i segnali, il mettere i paletti, questo si fa e questo non si fa, magari spiegando perché, mica dico con la frusta, però far capire che i paletti ci sono e non si possono superare per nessun motivo. Quindi delle regole, ad esempio... Una ragazzina si rispetta comunque. Mettere delle regole del tipo computer e telefonino spenti ad una certa ora, ad esempio, ad esempio sì, ad esempio sì, oppure certe trasmissioni le guardiamo insieme, perché anche al pomeriggio, anche per i ragazzini, ci sono trasmissioni terribili, trasmissioni con modelli pessimi. Lì bisognerebbe aprire un capitolo a parte su quello che offre il servizio pubblico, con programmi non adatti, anche al servizio privato, servizio pubblico di più, perché credo si abbia una responsabilità maggiore, naturale, ma la corsa è a ribasso, sembra che faccia una gara e chi fa peggio. E poi vedere anche che tipo di amici frequentano, cercare di coinvolgere le famiglie degli amici in occasioni, come dire, di contatto reciproco per capire che ambiente frequentano. Il controllo troppo pesante e oppressivo, ma anche l'inesistenza di controllo è dolorosa per un bambino, per un ragazzino. E in realtà gli dice, a me non importa niente. E questo è grave. Quando lei incontra, insomma, ragazzini, studenti, sono consapevoli dei rischi che corrono andando su internet, delle leggi che poi ci sono e che si devono rispettare, ad esempio, a cominciare da quelle legate alla privacy, per la pubblicazione di alcune foto, se noi ci fotografiamo insieme, sappiamo benissimo che se io voglio pubblicarla sul mio profilo avrei bisogno della sua approvazione. Pensi a YouTube, all'infinita mole di immagini che si veicolano in questo modo. Ma sai, i ragazzini su questo piano reagiscono come reagisco io quando mi dicono che non dovrei fumare. Cioè, lo so che mi fa male, ma tanto mi controllo, ma tanto non esagero, ma tanto a me non succede. Ah sì, lo so, ma questo bisogna stare attenti, ma io sto attenta. È un'autodifesa che è una rimozione, però questa è la risposta. Quindi bisogna fare un lavoro molto lento e molto lungo, prima di insegnare delle regole, del rispetto. Anche sta cosa, per esempio, che volano tanti insulti e che volano insulti di natura pesantissima. Come fai a chiamare con termini così pesanti una bambina di dieci anni? Ma se lei li sentisse, troia, puttana, a dieci anni, spiegargli che non si può fare. Ma non si può fare per rispetto di una persona, non perché è una parolaccia in sé. Non si può fare perché significa una cosa che non è sostenibile. E allora tutto questo accompagna e percorre la stessa strada del controllo sui telefonini o sui tablet. Ma non basta dire chiudilo, bisogna anche dire usalo in un altro modo. Si può usare bene, si può usare per fare tantissime cose. Senti, ho tirato fuori alcuni dati al proposito del fenomeno sexting. Un adolescente su quattro fa sexting in un anno e più che raddoppiato il numero di giovani che riceve foto e video hot sul proprio cellulare. Si. Un altro dato, il 74% dei ragazzi, il 27% delle ragazze va sul web per vedere o fare sesso, sapere tutto sul sesso o cercare un partner. La cosa che è paradossale in questo paese, così bigotto e così disinibito contemporaneamente, è che questi ragazzini che non hanno nessuna educazione sessuale, perché né i genitori, né la scuola, né altre agenzie di socializzazione gliela danno, che non conoscono il proprio corpo, che non si rendono conto che certi comportamenti sono oggettivamente pericolosi. Lei pensi che almeno in ogni scuola media c'è qualche bambina incinta e che nelle superiori il numero cresce molto, dove non si parla mai di contraccezione, dove non si insegna mai anche una regola elementare di rapporto con l'altro sesso, eppure questa stessa società che ha prodotto questa ignoranza e questo silenzio ha prodotto anche questi fenomeni. E riusciamo a compensare queste contraddizioni scaricandole sulla pelle dei più deboli, degli adolescenti, dei giovani. Non è paradossale? Non parliamo mai di contraccezione in televisione, ma facciamo vedere veline tutte le sere. Senta, lei ha detto in questo articolo, dove c'è una parte con alcune sue dichiarazioni, l'articolo di Penella Leocata che è stato pubblicato sulla Sicilia, spesso nelle scuole dove accadono questi fenomeni non si denuncia, non si dice nulla per evitare di compromettere il buon nome della scuola. Anche questo è un altro dato preoccupante. È molto preoccupante, però anche qui c'è una responsabilità in qualche maniera più lontana. Non è soltanto un fatto di pruderia o come dire di ipocrisia, che una volta si sarebbe detto ipocrisia borghese. No, è il fatto che meno studenti ha una scuola, più rischia di perdere posti di lavoro, accorpare i plessi, avere meno finanziamenti e alla fine addirittura di chiudere. E quindi pur di non perdere studenti che vengono chiamati utenti, quasi clienti, si è mercantilizzato anche il rapporto educativo, la stessa cosa accade all'università. Si derubrica tutto, noi diamo esami meno difficili, libri meno complessi, meno numero di pagine, meno esami, se no gli studenti scappano. Le scuole offrono un'immagine radiosa perché se no le famiglie scrivono gli studenti da un'altra parte. E questo significa una perdita secca. Il ragionamento di un dirigente non è soltanto, come dire, di mettere la polvere sotto il tappeto, è anche di non essere privato di risorse. Di mettere anche, far perdere posti di lavoro. Professoressa, ragazzini e ragazzine di oggi, poi giovanotti e signorine, un giorno diventeranno adulti e se non riescono a confrontarsi faccia a faccia con un interlocutore, con degli interlocutori, avranno dei problemi nel prossimo futuro. È molto probabile, infatti io che non facevo discorsi sul peccato, faccio però discorsi sulla felicità. Una persona che brucia così delle esperienze che andrebbero graduate nel tempo, le brucia a un'età molto piccola, è una persona che poi troverà poca gioia, poca felicità nei rapporti con gli altri. Avrà un concetto mercificato delle relazioni, avrà poca capacità anche di parlare delle proprie emozioni, di ascoltare le emozioni degli altri, perché non l'hanno abituata, perché non lo sa fare. E questo è un mondo che mi preoccupa. Senta, un suggerimento che potremmo dare a coloro i quali ci seguono da casa, quello di guardare un po' meno la televisione, di spegnere il computer e i telefonini e parlarsi di più in famiglia? Parlarsi di più, andare a fare più gite, ma quando dico fare più gite, non dico andare nell'ipermercato, perché sai le mie studentesse a volte dicono, ah sabato pomeriggio ho fatto una bella passeggiata. Sono diventate le nuove piazze. E dico, dove sei andata? Pensavo fosse andata sull'Etna, al mare. Ah, è Napoli, mi sono divertita moltissima, è andata avanti e indietro tutto pomeriggio. Non è questo il contatto con i figli? Io dico, fare delle cose insieme, fare lo sport, giocare, fare un viaggio, andare a vedere una mostra, parlare di un libro che si è letto. Queste sono cose che rendono in qualche maniera il rapporto più vario e più interessante. Se tu non hai niente da dirgli, un bambino anziché stare con te guarda la televisione. Questo è comprensibile, no? L'avrei fatto anch'io. Assolutamente, assolutamente sì. Lei non è catanese, insomma. È catanese d'adozione perché ci vive da tanti anni. Ma non mi attacchi questa domanda al discorso di prima perché sembra che io importi i modelli nordici. No, 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 assolutamente. No, non è questo, sì, vivo a Catania da... Ci piace anche curiosare sulla vita, insomma, dei personaggi che si alternano con quella sella. Io sono un'immigrata all'incontrario. Da Torino è arrivata a Catania. Da Torino sono andata a Roma, da Roma sono arrivata a Catania, ma la cosa importante è che ci sono rimasta. In genere invece si fa il percorso inverso. Ha fatto un percorso all'incontrario. Infatti, vado contromano come migrazione e sono contenta di starci, infatti. Senta, lei ha un profilo Facebook, diceva prima, che cosa posta su Facebook? Io posto una ventina di messaggi al giorno come minimo. Intanto tutti gli articoli che mi piacciono, interessanti, che leggo. Poi i riassunti delle lezioni che faccio, anche un po' come dire romanzati. Quindi è uno strumento di lavoro per gli studenti? Sì, di lavoro, di socializzazione, di condivisione. Quando trovo delle immagini che ritengo importanti, quando succede qualcosa e adesso ne succedono di cose, esprimo un mio parere e loro mi rispondono. Loro non sono studenti, fra tutti i miei amici ci sono colleghi, ci sono amici anche di altre città. E dato che siamo così attivi, poi è bello perché su questo gruppo che abbiamo fatto in facoltà, docenti delle altre città, mi è capitato oggi una docente di Genova, mi dice Mì, ma come siete brave a Catania, quante cose fate. E' tutta contenta. E gli studenti la seguono in questo suo percorso, diciamo, diverso di essere su Facebook, perché normalmente si è su Facebook per mettere le foto della gita, le foto in posa, come dicevamo. O anche le foto dei piatti che si mangiano, cosa per me incompreensibile, uno che fotografa la pasta asciutta. Nota è che però non sono solo io, moltissimi miei colleghi sono su Facebook e moltissimi fanno questa stessa cosa, se non voglio sembrare chissà cosa. Non soltanto mi piace molto, ma in questi gruppi che abbiamo creato c'è un nuovo protagonismo studentesco che mi pare molto interessante, perché cominciano a prendere, come posso dire, prima si vergognavano un po', si sentivano inadeguati, poi da quando vedono che lo scambio può essere, per esempio, ieri un ragazzo, avevamo parlato di dinamiche della violenza di genere, un ragazzo ha postato una canzone di Carmen Consul e ha detto professoressa, sentendo questa mi è venuta in mente la sua lezione, e allora altri hanno risposto, ah sì, anche a me piace, no, a me piace di più quella di... Insomma, è carino, mette in contatto la vita quotidiana con l'accademia, cosa che... Sì, è anche un modo per confrontarsi, insomma. Sì, loro possono anche dirmi che, non dico delle fesserie, non è mica vietato, può darsi, sì, sì. Senta, tornando al tema principale per cui, insomma, l'abbiamo chiamata qui, le scuole potrebbero svolgere un ruolo decisamente diverso e possono cominciare a fare, ad esempio, che cosa? Ma noi intanto di cosa ne stiamo facendo tante, sono contenta di avere questa occasione per dire che abbiamo creato insieme all'ufficio scolastico provinciale, insieme a molti docenti, veramente brave, perché guardi che i docenti bravi ce ne sono tantissimi, l'altro problema è che non vengono valorizzate, che la loro professione ha perduto prestigio, ma loro lavorano molto e quindi abbiamo creato una rete di scuole. Abbiamo impiantato un corso di formazione per docenti su queste problematiche che comincerà a fine novembre. Il 5 dicembre inauguriamo a San Giovanni la Punta un centro studi su questi temi a cui parteciperanno moltissimi docenti, al polivalente di San Giovanni la Punta, dove c'è una preside molto illuminata e molto brava. Tante cose stiamo cominciando a fare e c'è una risposta notevole, certo su 2.000 docenti risponderanno 100, ma 100 vuol dire 3.000 studenti, 3.000 studenti vuol dire 6.000 genitori, è un discorso a macchia d'olio che può cominciare. Si comincia a tracciare una strada. Noi le ringraziamo di essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento, alla prossima volta. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.